Benvenuti cari ascoltatori di Radio Puggini On Air ad un nuovo episodio in cui esamineremo insieme il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano dato a Gisella Cardia oggi, 3 luglio 2024, durante il raduno di preghiera sulla collina del Rosario a Trevignano Romano di cui abbiamo già iniziato a parlare e abbiamo esaminato le sue parole, la sua risposta alla Chiesa Cattolica che attraverso il Vaticano ha confermato e affermato con certezza che non c'è nulla di sopranaturale negli eventi di Trevignano Romano allo stesso tempo invece Gisella Cardia ha ribadito che lei è solo una vittima di tutto ciò che le è accaduto insomma ha alzato le mani, cioè non c'entro nulla, però non posso negare che sia accaduto e dunque lo ha confermato, ha confermato tutto ciò che è accaduto sinora a lei e tutti i fenomeni straordinari, le apparizioni, i messaggi dunque questa volta dopo terminata la preghiera del Rosario si rivolge a tutti introducendo la lettura del messaggio della Madonna di Trevignano dicendo adesso leggeremo il messaggio che ci ha dato oggi la Madonnina ovviamente voi lo sapete, io lo dico sempre che le apparizioni non sono un dogma di fede voi potete credere o non credere beh, questo lo sapevamo, anzi soprattutto quelle di Gisella Cardia non sembrano essere proprio un dogma di fede tanto più che la Chiesa ha detto che sono tutte bugie e continua Gisella Cardia dicendo una cosa è certa la Madonna scende su questo luogo benedetto adesso vi leggo le sue parole e leggiamole allora anche noi ripeto, come sempre ci può essere sfuggita qualche parola abbiamo fatto una trascrizione del messaggio ascoltato poche ore fa per poterlo leggere e commentare insieme infatti non c'è ancora nessun post ufficiale nessun articolo della Madonna di Trevignano dove possiamo leggere il messaggio allora ve lo leggeremo noi in anteprima e poi sicuramente verrà pubblicato però qualche parola possiamo averla persa per di più la stessa Gisella Cardia oggi si è inceppata, si è fermata ma poi ve lo raccontiamo mano a mano che leggeremo il messaggio non vi anticipo nulla il messaggio inizia così figli amati grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore in genere iniziano sempre così i messaggi della Madonna di Trevignano figli miei ricordate i segni dei tempi dice Gisella Cardia poi, ah scusate no, riguardate i segni dei tempi qui dunque un primo errore una prima incertezza nella lettura della sua scrittura oppure della scrittura di qualcun altro comunque ci rifletteremo dopo perché questo è solo il primo errore continuare il messaggio e voi non fate finta di non capire guardatevi intorno guardate il cielo dunque un messaggio non so, tra il profetico e l'apocalittico guardate i segni cieli guardate la fine dei tempi i cieli poi pioveva, c'era maltempo probabilmente guardate il cielo in quel senso guardate che ci sono i cambiamenti climatici non lo so, eccetera, eccetera guardate che arriva la fine del mondo cosa voleva intendere poi parla naturalmente il messaggio non poteva mancare nemmeno questa volta dei consacrati coloro che affermano che non c'è nulla di soprannaturale a Trevignano naturalmente l'uso strumentale da parte di Gisella Cardia dei messaggi della Madonna per difendersi in qualche modo ripulirsi la faccia di fronte almeno ai suoi seguaci convinti un utilizzo dei messaggi della Madonna per ribadire sempre alcuni concetti uno ormai si ripete sempre è quello che la Chiesa sta sbagliando naturalmente i sacerdoti sono dei peccatori sbagliano tutti solo lei ha ragione guarda caso la Madonna ha scelto proprio lei a cui apparire e lasciare dei messaggi all'umanità dunque il messaggio continua così figli miei pregate per la Chiesa dove la confusione regna potente ricordatevi di pregare per i miei consacrati quindi la Madonna ribadisce che sono i suoi consacrati non del Papa attenzione e ricordate loro che quando la barca è nella tempesta non è il modernismo o e qui si ferma Gisella non riesce a leggere a capire quello che c'è scritto e poi si riprende o stare nel mondo dunque non è il modernismo o stare nel mondo che può e qui Gisella Cardia si inceppa alla grande direi il più grande inceppamento da parte di una veggente mai visto il momento di imbarazzo che la porta anche a fare una smorfia perché non sa cosa dire poi riesce a leggere e sinceramente non sono mica tanto convinto che abbia letto bene poi quello che o che abbia capito lei stessa quello che stava dicendo allora ricordiamo e ricordate loro i consacrati ai consacrati che quando la barca è nella tempesta non è il modernismo qui o pausa stare nel mondo che può e non riusciva a dire questa parola che può curare ma solo Gesù anche qui un'altra piccola incertezza prima e si vede Gisella Cardia che fa una smorfia avrebbe voluto dire cacchio si può dire cacchio no cavolo e o stare nel mondo che può curare ma solo Gesù può colmare scusate ora ho sbagliato io può calmare la tempesta allora non so forse ha senso o forse ha sbagliato probabilmente non è ancora stato pubblicato il messaggio perché stanno decidendo come colmare questo errore non lo so vedremo poi se abbiamo capito bene noi ascoltando dunque dice ricordatevi di pregare per i miei consacrati e ricordate loro che quando la barca è nella tempesta non è il modernismo o o stare nel mondo che può curare ma solo Gesù può calmare la tempesta allora qui si apre un dibattito penso che questo in questo episodio è il dibattito principale non tanto il contenuto che abbiamo ascoltato sinora di questo messaggio che ormai è pane quotidiano insomma sempre le stesse cose praticamente ma queste incertezze che a un certo punto uno può pensare ma mentre leggeva Gisella Cardia non riusciva a capire cosa aveva scritto poi facciamo il punto no ma scusami ok e se lo avesse fatto apposta perché lei ha spiegato così che funziona in questo modo durante l'estasi presunta riceve questo messaggio dalla Madonna poi ha un tempo per ricordare tutto il messaggio per intero dunque tutto ciò che ha detto la Madonna e questo è un altro fatto miracolo straordinario perché non riuscirei nemmeno a ricordare due parole dopo tre secondi dunque lei ha un tempo in cui ricorda il messaggio e lo scrive su questo quadernone e allora se fosse così ok lei ha scritto poi velocemente il messaggio perché ha quel tempo per ricordarlo non penso che poi se lei si dimentica una frase della Madonna in qualche modo arriverà in soccorso non penso che ma quindi questo tempo per ricordarlo dopodiché lei non ricorda più quello che ha scritto perché continua la preghiera del rosario eccetera eccetera dunque non ricordando quello che ha scritto se ha scritto qualcosa un po' male fa fatica a leggerlo dunque questo sembra una cosa naturale se fosse così allora spiegatemi perché soprattutto nelle volte precedenti perché oggi non c'è stata una lunga omelia c'è stato un discorso che abbiamo visto nell'episodio precedente all'inizio molto lungo e non ha fatto questa breve riflessione che fa sempre dopo il messaggio no perché non ha spiegato quello che c'era scritto nel messaggio probabilmente perché ormai è sempre quello lo sappiamo c'è poco da spiegare ma in altre altre volte invece l'ha fatto cioè altre volte ha fatto un esegesi del messaggio come se già il messaggio lo avesse letto ascoltato quasi scritto lei no per quanto la riflessione fosse attinente anche lei fosse no in così poco tempo riesce a capire quello che dice la Madonna e a spiegarlo agli altri insomma perché invece questa volta addirittura faceva fatica a leggere il messaggio mentre in altri casi sapeva si ricordava tutto il messaggio a memoria anche dopo praticamente perché aveva preparato un discorso probabilmente una riflessione già prima quando ha scritto il messaggio se fosse tutto falso allora ci sono delle contraddizioni direi notevoli o solo io noto queste discrepanze dunque se i messaggi e le apparizioni fossero vere lei ha un tempo in cui ricorda quel messaggio lo scrive poi lo scrive può capitare che scrive una parola male perché ha quel tempo magari ha poco tempo dunque scrivendo velocemente poi non riesce ad interpretare una cosa che ormai non ricorda nemmeno più dunque anche lei deve leggerla questo è uno scenario che non può essere lo stesso in cui altre volte invece fa ricorda benissimo ciò che è stato detto nel messaggio ne fa addirittura un esegesi dunque in quel caso i messaggi sembrano scritti direttamente da lei o da chi per lei però sembra che lei li conosca molto bene già e ci abbia preparato uno una predica sul su questo come se avesse appena letto il vangelo insomma nessuno può fare una predica su una pagina del vangelo se non l'ha mai letto prima no altro scenario invece che una persona razionale cattiva brutta come me naturalmente è lo scenario che prende più in considerazione fra tutti questi ossia che non c'è nessun vero messaggio naturalmente il messaggio l'ha scritto lei o qualcun altro per lei facendosi aiutare magari da chat gpt e in questo scenario quello che per me è più probabile che preferisco Gisella Cardia si rivela sempre più brava come attrice perché avrebbe messo in scena queste incertezze e un segno osservando più volte ho rivisto le immagini un segno di ciò che sto dicendo mi sembra il fatto che lei in certo modo fa quella smorfia insomma che è un po' fuori contesto però sarà l'imbarazzo sarà non lo so la sua spontaneità probabilmente ma il fatto di avere delle incertezze di mostrare delle incertezze sul testo sulla lettura della sua scrittura dunque sulle parole della Madonna potrebbe essere fatta apposta proprio per cercare di far credere agli altri che questi messaggi sono veri dunque lei li riceve li scrive ma fa addirittura fatica a leggerli magari a capire quello che c'è scritto perché l'ha appena ricevuto ecco questa sarebbe la migliore recita che lei avrebbe potuto fare nel senso che se l'avesse fatta apposta allora qui ci vuole un applauso per Gisella Carbia perché è proprio questo che funziona è proprio questo che funziona se devi dire una bugia devi dirla talmente grande e la dici così grande devi essere credibile in tutto perché non saremo di certo noi i primi qui a Radio Bugino Ner ad aver pensato ma forse si riscrive lei questi messaggi addirittura era uscita fuori la storia di padre Scozzaro che dalle chat poi degli investigatori che l'hanno arrestato non è che non era gossip o clamore mediatico quello ma proprio dalle intercettazioni era uscito fuori che sembra questo padre Scozzaro aiutasse Gisella Carbia a scrivere o rivedere prima di leggerli come messaggi avuti dalla Madonna lì al campo delle rose e correggerli dunque prima dunque è molto probabile da quei messaggi che davvero Gisella Cardia potesse scriverseli prima oppure imparare a memoria a quel punto come fa a non capire cosa sta leggendo se in realtà lei li conosce già a memoria dunque secondo me lo scenario più probabile è proprio quello che vi dicevo ossia Gisella Cardia bravissima attrice ha cercato di proprio perché sa come noi che molti dicono che li scriva lei insomma siano dei messaggi fatti ha detto adesso faccio finta che non riesco a leggere quello che ho scritto così sembrerà più credibile magari c'è anche chi gli suggerisce queste mosse queste strategie forse che ne so l'avvocato Marchignoli che è stata anche citata da lei all'inizio dell'incontro dunque se fosse così davvero oggi 3 luglio 2024 Gisella Cardia se lo merita davvero un applauso da Oscar ok bene sì ma basta basta regia non esageriamo sì però non esageriamo direi che può bastare sì un applauso da Oscar abbastanza no vediamo come prosegue il messaggio di Gisella Cardia o dato a Gisella Cardia dalla Madonna figli aprite i vostri cuori colmi scusate adesso sono io che non riesco a leggere figli aprite i vostri cuori allora sì giusto ho dovuto riascoltare l'audio perché la trascrizione era sbagliata figli aprite i vostri cuori colmi di tenebre e fate entrare la luce di Dio ed ecco che la vostra vita cambierà perché tutto potrà fare Dio e non più voi siate nella pace pregate per questa guerra che impervia sul mondo e ti pareva che in un messaggio non ci aveva messo di mezzo la guerra fa parte sempre dei meccanismi dei veggenti per mettere ancora più paura eseguaci più facilmente manipolabili attraverso la paura questo non è un segreto ormai è una strategia che tutti conoscono lo stesso fanno i politici per prendere i voti insomma siate nella pace pregate perché questa guerra che impervia sul mondo per questa guerra che impervia sul mondo ora vi benedico nel nome del padre del figlio dello spirito santo così si conclude il messaggio dunque nessuna novità in realtà nei contenuti ma sono stati molto interessanti questi inceppamenti di Gisella Cardia che non riusciva a leggere la propria scrittura fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti del nostro podcast concluso il messaggio dice Gisella Cardia la Madonna dice anche che qualcuno ha chiesto una grazia che sarà sicuramente fatta da parte di Gesù di Dio magari testimoniate se qualcuno ha pregato per qualche grazia che l'ha ricevuta grazie ecco Gisella Cardia dunque in cerca di altre testimonianze vedremo magari ci sarà un altro post tra poche ore e pochi giorni come quello di Lorena di cui abbiamo parlato a lungo in cui ci saranno altre testimonianze magari più recenti è molto facile essere così generici no? anch'io potrei dire la Madonna mi ha detto che la grazia che voi una delle tante grazie che voi mi avete richiesto sarà esaudita poi se la ricevete testimoniate cioè sparare così sul mucchio magari c'è sicuramente qualcuno che pensa visto che magari qualcosa gli è andato bene una richiesta che faceva la Madonna magari chiedeva di vincere al Superanalotto per caso vince e poi allora pensa che è stata la Madonna insomma meccanismi su cui giocano sempre i veggenti non solo stregoni santoni eccetera no? dopo questa già ritirerei l'applauso a Gisella Gardia ma quello è un applauso per la recitazione per l'interpretazione naturalmente e conclude Gisella Gardia grazie per essere qui nonostante questo tempo terribile bruttissimo però non è importante per noi quest'acqua è grazia non è altro che grazia l'avrebbe detto più il campo se invece di ospitare i raduni di preghiera avesse ospitato zucchine melanzane e altri ortaggi sicuramente sarebbe stato più felice il campo di ricevere tutta questa acqua quindi ringrazio a Gisella Gardia le persone che l'hanno seguita su youtube e dice vi ringraziamo molto per essere intervenuti per essere stati qui per aver pregato con noi il santo rosario sappiate che vi voglio bene un abbraccio forte grazie grazie pregate per noi grazie poi dice bene rivolgendosi a chi sta dietro la telecamera o il cellulare che trasmette la diretta dicendo bene spegni perché ora parlo continuo a parlare ma di nascosto da internet chissà cosa dirà ai fedeli una volta spenta conclusa la diretta su youtube rimane lì in attesa col microfono per dire delle cose che non vuole sappiano tutti evidentemente sarebbe molto interessante magari se qualcuno che sta lì al campo volesse mandarci un audio volesse mandarci una sua testimonianza di ciò che Gisella Cardia dice dopo quando spegne si spengono le telecamere sarebbe molto interessante fate voi senza impegno anche anonimamente in privato potete mandarmi qualcosa oppure vediamo se riusciamo ad organizzarsi ad organizzarci magari potremo andare direttamente il prossimo mese a seguire l'apparizione presunta il raduno tutto questo proprio dal vivo chissà perché no potremo anche fare un tentativo non so se mi fanno entrare non so se ci vuole un patentino o qualcosa comunque sono battezzato ancora non mi sono ancora sbattezzato per cui faccio parte comunque della chiesa cattolica in teoria dovrei poter entrare naturalmente senza fare riprese senza ma così per assistere vedere dal vivo sarebbe interessante siccome Gisella Cardia poi fa finta di avere l'apparizione eccetera eccetera io posso sempre far finta di pregare se vado lì ma nel frattempo magari ripasso qualche canzone mentre faccio finta di pregare anzi io volendo vengo a Trevignano faccio pure un concerto gratis per Gisella Cardia sì lo farei proprio lì al campo che non è male col panorama dietro cioè assistiamo e poi dopo c'è le tre l'apparizione ok le tre le quattro le cinque verso le sei così potremmo fare un bel concerto fino al tramonto io lo faccio gratis se Gianni Cardia la situazione mi fa trovare un bel service tutto pronto io vengo una certa canto posso anche cantare delle canzoni che non sono le mie posso cantare anche delle canzoni di chiesa per esempio perché no Baglioni ha scritto per esempio una canzone quella lì di Baglioni dedicata a San Francesco fratello sole sorella luna che tutti conosciamo quella è una canzone che nasce da un autore di musica leggera è una canzone penso che va bene per qualsiasi tipo di raduno religioso per cui volendo faccio pure un concerto gratis e lo chiamiamo proprio fratello sole sorella luna però poi l'associazione deve pagare la SIAE e fare tutto ciò che è necessario io mi offro volontario insomma ecco tutto il resto non posso mettercelo io ma io la mia persona le mie canzoni la musica sono a disposizione per Gisella Cardia però voglio assistere voglio assistere all'apparizione voglio vedere tutto voglio essere lì e con l'occasione magari perché no fare anche una bella intervista live a Gisella Cardia allora bene facciamo così perché poi ci sono anche tante altre notizie che dobbiamo darvi qui a Radio Puginion Air abbiamo dei tempi un po' più limitati rispetto al solito quello che a me è venuto in mente leggendo questo questo messaggio della Madonna di Trevignano di oggi 3 luglio 2024 oppure ascoltando vedendo l'introduzione che ha fatto Gisella Cardia la lunga introduzione la sua risposta al decreto confermato dal Vaticano pochi giorni fa ho espresso le mie opinioni il mio punto di vista le mie impressioni ho cercato di commentare fare un'analisi molto schietta perché le prime impressioni spesso sono quelle che valgono anche io faccio tanti errori e me ne scuso vi ringrazio come sempre perché siete in tanti a seguire Radio Puginion Air anche ad ascoltare la mia musica devo dire vi ringrazio per questo e mi farebbe piacere però ricevere più feedback anche sulla mia musica allora concludiamo così visto che abbiamo preso oggi una piega con questo speciale un po' anche a volte ironica ci sono stati degli applausi da parte che la regia ha mandato addirittura ma andiamo un'altra cosa per concludere che non fa ridere non è spiritosa ma è un mio singolo che condivido con voi non so perché condivido questo singolo ne ho tanti è uno dei più recenti ma si intitola Credo e alcuni di voi penseranno soprattutto anche seguaci di Gisella Cardia a coloro che cercano di convertirmi ma non solo seguaci di Gisella Cardia a proposito devo rispondere in privato ad alcuni di voi lo farò appena possibile e mentre cercate di convertirmi alcuni di voi almeno e io invece cerco di convertirvi alla razionalità alla logica ai fatti dimostrabili oppure alle opinioni critiche anche grazie a questo podcast ma rimango e sono sarò sempre un cantautore che esprime spero proprio lì nel miglior modo possibile per me la propria fede si può credere in Dio si può non credere in Dio l'importante è credere in qualcosa e io credo nella musica per cui vi lascio facendovi ascoltare vorrei riascoltare insieme a voi in questo momento concludendo questo episodio uno dei miei singoli a cui sono più affezionato e dai numeri che mi arrivano dovrebbe essere se non sbaglio anche il singolo più ascoltato del mio nuovo album da marzo sino a qui la canzone di un ateo dal titolo credo per voi su radio Fugginio Nea un giorno partirò l'ultimo viaggio e ti deluderò perché non avrò avuto coraggio un giorno partirò verso l'ignoto ma ti raggiungerò troverò un modo per farmi sentire con poche parole in una canzone e ti spezzerò il cuore ti spezzerò il cuore senza una vera ragione una vera ragione credo ci sia qualcosa di meglio e credo a questo poi a quello forse non uso il cervello ancora credo a quello che non vedo io come se fossi cieco nego mi spezzo ma non mi spiego nego un giorno partirò all'avventura forse sarò lassù oltre la luna distante dal mondo dalla materia dal tempo un giorno partirò l'ultimo volo andrò dove non è ma è stato l'uomo per capire chi sono se c'è qualcosa di buono oltre l'ozono e ti spezzerò il cuore ti spezzerò il cuore senza una vera ragione una vera ragione credo ci sia qualcosa di meglio e credo a questo poi a quello forse non uso il cervello ancora credo a quello che non vedo io come se fossi cieco nego mi spezzo ma non mi spiego l'ego oh 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 credo oh 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 ci sia qualcosa di meglio oh 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 e credo a questo poi a quello oh 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 forse non uso il cervello oh 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 ancora credo oh 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 a quello che non vedo oh 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 io come se fossi cieco nego mi spezzo ma non mi spiego l'ego e ti spezzerò il cuore ti spezzerò il cuore senza una vera ragione e Jesus tu mum tu